Un po' ne parlavamo perché è stato provato tanto anche Bruno Fernandes come soluzione alternativa, come seconda punta, ma noi ci aspettiamo un tero di Natale in un 3-5-2 classico. No, sicuramente sì, quindi penso che il modulo che ha fatto nel secondo tempo a Pologna penso che sia il più idoneo, il più ideale per la squadra, almeno in questo momento. Tutti ci si aspettano il ritorno al gol di Totò, noi ce l'auguriamo. Se partite domani è la settima, purtroppo bisogna anche tenere conto di una cosa, che lui non è che sia partito sempre titolare, quindi ha avuto tre partite che è partito da riserva, però credo che l'astinenza di Totò sicuramente si fa sentire. Si fa sentire l'astinenza di Totò, ma anche questa astinenza di Vittorio Casalinghe, arrivata un po' per demeriti, vedi il primo tempo regalato al Milan per sfortuna, vedi la gara contro il Palermo, qualche calo di concentrazione contro l'Empoli, però al momento i tifosi davvero sono incomiabili, sono sempre rimasti vicini, vicinissimi alla squadra, vogliono questa Vittoria Casalinghe. Un po' anche noi, la squadra stessa, si aspetta questo primo successo nel nuovo stadio. Assolutamente sì, quindi è una cosa primaria questa Vittoria, che tutti si aspettano. Noi ce l'auguriamo di domani contro il Genova, questo succede, però è una squadra difficile che va a incontrare, quindi una squadra che viene anche dalla Vittoria contro il Milan, è saltata, ha trovato autostima, ha trovato fiducia, quindi stavano passando anche un periodo non bello, però quella Vittoria col Milan sicuramente li fa sentire più forti, e quindi la partita diventa ancora più difficile. Mi focalizzo appunto su due elementi, perché anche di questo parlavamo prima di venire qui in diretta, c'è Lodi che molto probabilmente giocherà, ha messo quell'ordine a centrocampo molto importante, sull'altro versante c'è Blair Ingemaili, che è stato magari un acquisto poco pubblicizzato rispetto ad altri, però si è messo lì a centrocampo, ha messo ordine al di là del gol Vittoria, anche un po' fortunoso, ottenuto contro il Milan, sono due giocatori che poi possono determinare gli equilibri di una partita. Assolutamente sì, non so se Lodi lo fa partire da titolare con l'Antuono, non so che idea ancora ha, quindi di formazione, di modulo, però credo che siano due giocatori che sicuramente hanno dato equilibrio a tutte e due le squadre in mezzo al campo. Arroba arriva questo Genoa, abbiamo parlato un po' della squadra di Gasperini, a sei punti come l'Udinese, anche il Genoa ha avuto delle difficoltà, però è una squadra che comunque lotta, lotterà sicuramente anche per le zone più alte di classifica, l'anno scorso non è arrivata la UEFA per problemi burocratici, problemi di licenza, però è una squadra da temere perché lì davanti le individualità dei vari Perotti, Pavoletti, li abbiamo un po' elencati tutti, anche lo stesso Diego Capell sono abbastanza temibili. Sì, hai detto bene, è una squadra che applica come modulo 3-4-3, ma io lo chiamo un po' un casino, perché quando parlo con Giampiero, 3-4-3 non esiste, perché lui gioca sempre 5, perché i due esterni si abbassano sempre, ultimamente però ha giocato con 3-4-1, perché Perotti giocava dietro le due punte, però ho qualche dubbio, anche perché è lui fuori casa, poi girano in continuazione, questo 3-4-3 diventa 5-4-1, diventa 4-4-2, quindi non c'è mai un modulo fisso in questa squadra. Mi spia perché io Giampiero lo conosco da quando era nella primavera della Juventus, quindi è un allenatore che non ha avuto tanta fortuna, ma è un allenatore molto bravo, che a me piace molto, ha avuto quello sprazzo di Milano e di Palermo che non è andata bene, e la sua fortuna l'ha fatta a Genova, quindi è andato in UEFA, quest'anno è stato riconfermato da due anni a questa parte, io direi che bisogna stare attenti, attenti perché la partita, come ripeto, è difficile e lui è sempre uno stratagema, non è uno che, ripeto, cambia modulo in continuazione. La certezza, come ultima considerazione, è proprio questa, è difficile magari studiare a livello tattico quello che farà il Genova, bisogna avere l'atteggiamento per 90 minuti, aggressivo, di cercare di soffogare anche un po' quelle che sono le fonti del gioco del Genova. Beh, assolutamente sì, però credo che se l'Udilese gioca, come ha giocato nel secondo tempo con il Milano, come ha giocato anche contro il Palermo, che è il primo tempo con l'Empoli, quindi la partita del secondo tempo di Bologna, credo che la determinazione non sia mancata, però basta regalare un tempo agli avversari, quindi sicuramente la squadra deve avere un approccio alla gara diverso e partire subito dall'inizio, quindi forte, determinata, poi la vittoria di Bologna è trasferta, credo che abbia dato anche tanta autostima, tanta fiducia ai ragazzi e speriamo che Totò domani ci illumini con qualche sua giocata.